Zugo, Zurigo, stazione centrale, partenza alle ore 8 e 36. Questo treno circola con una formazione modificata. Prima classe, settore B. Seconda classe, settori C. E D, ristorante, settore C. Gleis 1, Einfahrt des Eurocity nach Artgoldau, Zug, Zürich, Hauptbahnhof, Abfahrt, 8 Uhr 36. Dieser Zug verkehrt in geänderter Formation. Erste Klasse, settore B. Zweite Klasse, settoren C und D, ristorante, settore C. Erste Klasse, settore B. Erste Klasse, settore B. Erste Klasse, settore B. Cambiamento di binario per la S20 per Castione Arvedo. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 8 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 8 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 8 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 9 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 9 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 8 e 42. La S20 per Castione Arvedo partenza alle ore 8 e 43. Grazie.